Anticipazioni tempesta d'amore, trama puntate, lunedì, 2 maggio 2022. Hannes, teme di perdere per sempre Maya e, per convincerla a pianificare le nozze, il primo possibile, organizza una gita in montagna. La ragazza è molto felice, e quasi sembra dimenticarsi, dei suoi problemi con Florian. La coppia, durante una escursione, passa davanti ad una grotta. Alla sua vista, la Fontaline ne resta particolarmente affascinata. Hannes spiega che sta effettuando delle ricerche, proprio in quel luogo. Maya, entusiasta, decide di visitarne l'interno. All'improvviso, la terra comincia a tremare. Una forte scossa di terremoto sorprende i due ragazzi, bloccandoli all'interno della caverna. Hildegard è felicissima quando scopre che, nonostante lo spavento, Alphonse è uscito illeso dall'incidente. Vanessa scopre, che lo zio intende continuare, ad andare in moto. La ragazza, cerca di fargli capire che sua moglie, non approverebbe. All'improvviso. All'improvviso.